Ciao a tutti ragazzi, oggi vedremo i 5 errori più comuni che fa chi va a fare trekking in montagna. In questa estate 2021 ho avuto modo di girare montagne a destra e a sinistra, ho girato un bel po' l'arco alpino e ho avuto modo di vedere tanti tanti escursionisti approcciarsi per le prime volte o magari comunque principianti, persone che si approcciavano alla montagna. E ho potuto notare 5 errori comuni che fa più o meno chiunque si approccia alla montagna. Errori che personalmente ho fatto anch'io quando anch'io mi approcciavo all'inizio della montagna e oggi ve li riporto nella speranza di potervi aiutare a non commetterli più. Errore numero 1. L'allenamento. Non essere abbastanza allenati o comunque pensare di essere abbastanza allenati per fare un determinato dislivello. Ho trovato molte, molte volte, e sbagliavo anch'io, persone che magari si avventuravano per andare in un determinato rifugio su una determinata vetta perché hanno visto le foto su Instagram, perché gliel'ha consigliato l'amico, eccetera senza pensare al proprio allenamento personale, quindi magari partire subito con la prima uscita da 1200 metri di dislivello. Arrivare magari anche in cima, però essere talmente sfiniti, talmente morti da non riuscire a godersi il panorama, a godersi la salita e via dicendo. Ricordiamo sempre che quando arriviamo in cima siamo al 50% della nostra escursione e dovremo anche scendere. Secondo errore. Andare a scegliere dei percorsi che non sono adatti alla nostra preparazione tecnica. Molte volte noi studiamo dei percorsi o comunque non li studiamo abbastanza bene e ci ritroviamo magari su sentieri per escursi esperti, punti magari esposti con delle catene, punti magari dove c'è un po' da arrampicare e abbiamo paura. Mi è capitato davvero spesso, e sbagliavo anch'io all'inizio, di trovare delle persone in punti che facevano veramente fatica a superare e quindi non riuscivano magari ad arrivare dove si erano prefissati, dovevano tornare indietro prima. O ancora peggio, si facevano male e obbligati a chiamare il soccorso alpino, perché è in completa difficoltà. Terzo errore. L'attrezzatura. Qui potrei aprire un capitolo enorme sull'attrezzatura. Sappiate soltanto che in montagna si va con la giusta attrezzatura, quindi scarpe adatte, vestire adatto, zaino adatto e via dicendo. È un capitolo che so di andare a toccare un punto dolente, perché è una delle cose più dibattute su tutti i forum di montagna, però è veramente uno di quegli errori che si rischia di compromettere la nostra avventura. Si rischia di arrivare dove dobbiamo arrivare, magari al rifugio, con male ai piedi, completamente sudati, che strezzano la maglia e vengono giù le cascate. Quindi ricordiamoci che, come per ogni sport, il trekking è uno sport, ci va la sua attrezzatura. Più o meno costosa, questo non è un problema, ma ci va comunque la sua attrezzatura tecnica. Punto numero 4. Andare in giro con zaini troppo pieni o zaini troppo vuoti. Zaini troppo vuoti, si dice, beh, dov'è il problema? È un problema anche quello, perché se noi ci portiamo dietro meno materiale di quello di cui dovremmo aver bisogno, rischiamo di trovarci in situazioni spiacevoli, magari sotto l'acqua senza avere una giacca impermeabile, magari a metà salita aver fame senza essersi portati dietro neanche una barretta. Idem, allo stesso modo, lo zaino troppo pieno. Se abbiamo lo zaino troppo pieno sulle spalle, ci farà male la schiena, ci rovinerà completamente la nostra gita. Quindi teniamo conto che in montagna si porta la giusta attrezzatura, né troppo di meno, né troppo di più. Quinto e ultimo punto, forse anche il più importante, l'orientamento. Quando noi decidiamo di andare in un rifugio, su una vetta e via dicendo, dobbiamo sapere dove stiamo andando, che punti di interesse abbiamo a metà, quindi magari l'incrocio con altri sentieri, passiamo per degli alpeggi, troviamo altri rifugi e via dicendo. Avere un'idea del contesto, perché se per qualche motivo dovessimo deviare dal sentiero, dovessimo perderci, sapendo giusto due nozioni di base su dove siamo, riusciamo a riorientarci, a ritrovare il sentiero. E qui non sto dicendo che ci vanno attrezzatura come i dispositivi che si attaccano ai satelliti GPS e via dicendo. Basta il nostro semplicissimo smartphone. E così andremo a togliere forse uno dei problemi più grossi di chi va più in montagna, ovvero l'orientamento. Perché sappiamo che non sempre i sentieri sono tenuti bene o segnati bene. Ora che sappiamo quali sono i cinque errori più comuni che una persona fa di solito quando si approccia alla montagna, è giusto vedere anche come evitare di farli. Quindi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, arriveranno dei video mirati su ogni singolo elemento che abbiamo analizzato, appunto per evitare di commettere questi cinque errori. Al momento nella speranza di essere stato esauriente e disaustivo, ragazzi io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!